Al termine di Rocca Sicura a Piedimonte 2-0, Emanuele Pescitelli difende i colori del Rocca Sicura. Emanuele tu c'eri anche l'anno scorso lì a Piedimonte, possiamo dire che ci siamo presi la rivincita oggi? Sì, alla fine è un cerchio che si chiude. L'anno scorso abbiamo avuto forse la più grande delusione dell'anno, dopo un anno di sacrifici a Piedimonte e quest'anno ci siamo ripresi quello che forse meritavamo anche l'anno scorso sul campo perché posso dire che è nostro. Oggi abbiamo meritato di vincere, abbiamo giocato meglio di loro, abbiamo creato un sacco di palle e gol, non abbiamo rischiato praticamente nulla e quindi ora testa bassa a lavorare e continuare così. Senti, cosa ne pensi del gioco quest'anno? Da fuori dalla tribuna almeno si assiste a una squadra che riesce a giocare tanti palloni, a costruire veramente tante occasioni da rete, insomma c'è veramente qualcosa di positivo? È una squadra che ha un'identità ben precisa e sa quello che deve fare in mezzo al campo, quindi sappiamo che noi solo attraverso il gioco possiamo arrivare a raggiungere l'obiettivo e cerchiamo di farlo più spesso possibile, non ci riesce sempre perché ci sono gli avversari, però quando è possibile proviamo a farlo e specialmente sul nostro campo ci riesce discretamente bene. Senti Emanuele, mantenere i piedi per terra ovviamente, vero? No, no, assolutamente, assolutamente.